Musica Ben ritrovati, nuova edizione del TV giornale di Telestense, come sempre appuntamento ricco con diverse notizie. Apriremo tra poco parlando del parco urbano ancora al centro del dibattito in seguito ai lavori e alla chiusura che è ancora in atto in questi giorni. Ma parleremo anche degli azzerati carife, i consumatori chiedono incontro a MEF e CONSAP e anche del futuro del Delta del Po. C'è stato un convegno al Consorzio di Bonifica a Pinole di Ferrara in cui si è parlato appunto di quest'area specifica con il coinvolgimento anche dell'Università di Ferrara. E poi ancora andremo a Copparo, sopralluogo USL sindaco al cantiere della Casa di Comunità, così come poi parleremo anche di Ferrara, la guida della rete Small per la mobilità sostenibile. Ci occuperemo anche delle nozze di Figaro, ricordiamo l'opera che andrà in scena al Teatro Comunale di Ferrara. C'è stata un'iniziativa originale, i cantanti d'opera hanno cantato in centro le aree delle nozze di Figaro. E poi ancora ci occuperemo del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara con una serata dedicata a Florio Ghinelli. E sempre parlando di musica, mostre e convegni lungo il poco, la terza edizione del Festival Scorre. Per finire festeggeremo anche il compleanno di Aile Ferrara che ha celebrato 19 anni di attività. Ma cominciamo subito parlando del Parco Urbano di Ferrara, teatro come ricorderete del concerto di Bruce Springsteen più di un mese fa, che continua a creare appunto un confronto in città. L'area verde è attualmente interdetta, perlomeno in parte, per l'operazione di ripristino e riqualificazione. Lavori che ha detto dell'amministrazione comunale sarebbero stati eseguiti al netto del mega concerto appunto di Bruce Springsteen. Sono iniziati la riqualificazione dei vialetti che saranno allargati e intanto stanno continuando le manutenzioni dell'area verde, recintata in quanto area di cantiere fino alla definizione del manto, comunicato appunto come comunicano dall'amministrazione. L'apertura sarà effettuata non appena le condizioni dell'erba consenteranno di poter tornare a calpestarla senza danneggiarne la rigenerazione. E intanto dall'opposizione il PD entra nel merito del mega evento chiedendo una formale richiesta di accesso agli atti dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, soggetto attuatore, per verificare il contenuto del contratto per la realizzazione del concerto di Bruce Springsteen. Obiettivo, dicono dal PD, avere un quadro analitico dei costi sopportati, tra cui anche la vigilanza privata dei cantieri. Secondo l'opposizione sarebbero stati 500 mila gli euro di spesa previsti per il maxiconcerto del 18 maggio al Parco Urbano e il PD chiede chiarezza sui costi a carico della collettività. Adesso invece torniamo ad un'altra notizia anticipata in apertura. Dopo la notizia dell'aumento dal 30 al 40% degli indennizi per gli azionisti ex carife rimasti azzerati con il decreto salvabanche del 2015, provvedimento salutato con parziale soddisfazione da amici della carife e movimento risparmiatori traditi, le principali associazioni dei consumatori chiedono un incontro urgente al MEF e alla CONSAP. Sentiamo il perché in questo servizio. Adottare tutte le misure necessarie a garantire l'accesso al fondo e l'erogazione dei giusti importi ai risparmiatori questo chiedono le principali associazioni dei consumatori, tra cui figura anche Feder Consumatori. Continuiamo a batterci per chi a causa di errori incolpevoli, di sviste o di valutazioni errate ancora attendono di ottenere quanto li spetta e il riferimento è a quegli 800 azzerati carife che sbagliarono alcuni passaggi nella presentazione delle domande di indennizzo e che risulterebbero ancora senza rimborso e sarebbero stati lasciati fuori dalla legge che prevede l'aumento della percentuale di indennizi per gli azionisti. Una situazione sottolineata con rammarico anche da amici carife. Le novità non sono ancora sufficienti, dicono dalle associazioni dei consumatori le quali chiedono nuovamente un incontro urgente al Ministro dell'Economia e delle Finanze e alla CONSAP, organo deputato all'erogazione degli indennizi. Grazie a tutti. della richiesta di parere da parte del Comune alla sovrintendenza e della risposta della sovrintendenza stessa. Via social la consigliera parla di Scempio che si sta compiendo del centro storico patrimonio UNESCO nel silenzio più totale di chi per delega dovrebbe tutelare la bellezza della nostra città. Ci spostiamo di poche centenelle di metri, andiamo a Palazzo Naselli Crispi sede del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara dove si è tenuta un'intera giornata dedicata al Delta del Po e alle sue prospettive future anche in relazione ai cambiamenti climatici. L'intera giornata ricordiamo che è disponibile nella nuova puntata di Bonifica Oggi in onda su Telestense e Telesanterne e sul nostro canale YouTube ma intanto ne vediamo un'estratto. Studiare il Delta Padano dal punto di vista antropologico anche in relazione all'impatto dei cambiamenti climatici sulla società. Nasce da questa attività di ricerca l'evento Delta del Po un ecosistema sociale organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Ferrara dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e dalla CDS Cultura ODV in collaborazione con VIEWS, festa dell'antropologia visuale nell'ambito della manifestazione Aepocalisse, la crisi ecologica come sfida. Una giornata tenutasi a Palazzo Naselli Crispi ed introdotta dal Presidente del Consorzio Stefano Calderoni. È chiaro che questo evento capita nel pieno del contesto dei cambiamenti climatici e quindi nel 2022 privo d'acqua e nel 2023 dove effettivamente l'acqua ha distrutto interi porzioni di territorio emiliano-romagnolo quindi per noi è doveroso in questa fase affrontare il tema dei cambiamenti climatici anche ponendoci delle domande. Non ci sono oggi sicuramente delle risposte pronte in campo perché la sfida dei cambiamenti climatici è una questione che non riguarda porzioni di territorio ma riguarda il pianeta intero quindi evidentemente noi possiamo essere un punto di osservazione ma non certamente il luogo dove individuare tutte le soluzioni al problema. E quindi è chiaro che il tema dell'utilizzo di queste acque di come vengono regimate è per noi una grande sfida di innovazione per il futuro. Il nostro è un territorio fragile, oltre il 40% del nostro territorio è sotto il livello del mare e siamo di fatto abbracciati da due grandi fiumi che sono il Po da un lato e il Reno dall'altro. Insomma due grandi pericoli ma al contempo due grandi opportunità. Noi l'acqua la vediamo sempre come un problema e forse in queste settimane ancora di più ne capiamo l'importanza di riuscirci a difendere, di riuscire a fare delle opere infrastrutturali, di riuscire a programmare delle opere per mettere in sicurezza il territorio. Ma dall'altro l'idea anche di un paesaggio, di un ambiente che possa diventare un'opportunità e quindi non solo l'acqua come un rischio ma anche l'acqua come elemento di crescita per il territorio. Abbiamo pensato ovviamente di farlo con i nostri interlocutori privilegiati che in questo caso erano l'università e gli studenti dell'università perché quello che ci piaceva comprendere era anche quale fosse il punto di vista dei giovani sull'acqua e sul consorzio. Per cui abbiamo portato insieme appunto agli amici della facoltà dell'università di Ferrara abbiamo portato alcuni ospiti ma soprattutto abbiamo coinvolto i ragazzi in un'attività di ricerca che li ha spinti a ragionare e a riflettere sull'importanza che oggi le strutture consortili hanno. Non solo, hanno anche interrogato i cittadini, gli uomini della strada, a loro hanno chiesto che cosa sanno del consorzio di bonifica perché è importante che si assuma consapevolezza sul fatto che il nostro territorio, il nostro paesaggio non è dato per sempre ma è così grazie al lavoro incessante che noi quotidianamente svolgiamo. E da Ferrara andiamo a Copparo per i lavori al piano terra della Casa di Comunità. Sopraluogo giovedì dell'azienda USL con il sindaco Pagnoni c'è anche del restauro nei lavori che stanno riqualificando il piano terra della Casa di Comunità di Copparo. Le opere che termineranno entro il mese di ottobre sono condotte con i crismi dal restauro architettonico utile per bonificare alcune situazioni emerse nel corso delle demolizioni. Durante i lavori è emersa una curiosità e cioè uno dei locali interessati dall'intervento un tempo era adibito al deposito del carbone per riscaldare il vecchio ospedale. Le opere che riguardano soprattutto l'adeguamento impiantistico prevedono spazi modulabili per la realizzazione di 5 ambulatori dotati di sale d'attesa. Il cantiere infatti sta lavorando per predisporre tutto quanto per la realizzazione della sede definitiva del CAU ovvero il Centro Assistenza Urgenza l'evoluzione dell'ambulatorio a bassa complessità. Rimaniamo sempre in ambito sanitario e parliamo di una malattia che toglie vita agli anni e cioè il Parkinson. E a pronunciare queste parole sono molto spesso gli stessi pazienti. Alcuni di loro però sono tornati a vivere una vita di qualità grazie alla terapia AMPS erogata dal dispositivo medico Gondola. Cosa sia il Parkinson e come agisca su di esso il dispositivo Gondola ce lo spiegano il neurologo Stefano Tassin e la fisioterapista Chiara Previati nella nuova puntata di Sanità Benessere Oggi. Ricordiamo l'appuntamento in onda al venerdì sera su Telestense. Ne vediamo un estratto. Intanto il Parkinson è una malattia poco conosciuta perché la maggior parte delle persone è convinta che il Parkinson sia la malattia del tremore. In realtà non è vero, fa parte di una sfera dove c'è all'interno quel tremore ma è una malattia subdola che arriva un po' alla volta e un po' tutti i giorni ti porta via qualcosa. È una malattia del movimento quindi per dei meccanismi particolari a livello cerebrale si riducono la capacità di movimento a livello cerebrale e in automatico a specchio lo vediamo sul nostro corpo. Il paziente mentalmente sta bene dunque vorrebbe muoversi come faceva prima ma è un po' inchiodato nel senso che i movimenti appaiono subito più lenti il paziente diventa bradicinetico dunque oltre ad essere lento è anche molto disordinato come movimento molto lento e questa lentezza a volte lo obbliga a evitare di muoversi e quindi è una malattia che veramente porta via un sacco di qualità di vita degli anni del paziente. Ecco Chiara, anche a te faccio la stessa domanda questa espressione che ho voluto utilizzare nel titolo che cosa ti fa venire subito in mente? Tantissimi pazienti che appunto arrivano già sconfortati diciamo dalla diagnosi e che in un qualche modo anche rinunciano a provare a migliorare finché magari non arrivano da noi e provano che c'è qualcosa di diverso qualcosa di più di quello che offre la medicina tradizionale quindi cerco la speranza di migliorare di avere di nuovo qualcosa che gli possa permettere di recuperare vita degli anni e quindi poi quando poi capiscono che sulla propria esperienza c'è finalmente qualcosa in più allora vedi proprio la rinascita vedi l'espressione che cambia la gioia anche degli altri intorno immagino ovviamente perché la malattia di una persona ma poi diventa anche la malattia di tutti quelli che si prendono cura di quella persona certo la frase che di solito i cargiver o quantomeno i familiari dicono tutte le volte che vedono per la prima volta i risultati di gondola non lo vedevo camminare così da tantissimi anni e vi ricordo che Sanità e Benessere oggi come molti programmi ormai di Telestense sono disponibili on demand sul nostro canale YouTube adesso invece parliamo di sostenibilità quando fa rima con accessibilità questo è Small tra i progetti vincitori della Col Urbact sviluppato dal comune di concerto con il laboratorio aperto cittadino il progetto pone ferrare in testa a una nuova rete di città europee dedicata allo scambio di buone pratiche e allo sviluppo e test di soluzioni per rendere la mobilità sostenibile accessibile a tutte le categorie di cittadini in particolare i più fragili queste appunto le immagini che vediamo della conferenza adesso invece andiamo a teatro perlomeno ci andiamo in esterna perché debutta il 30 giugno alle 21 al Teatro Comunale Abbado il nuovo allestimento delle Nozze di Figaro capolavoro di Mozart ma intanto questo venerdì i cantanti d'opera hanno cantato in centro al mercato e nei negozi le aree più famose delle Nozze di Figaro vediamo com'è andata a una settimana dal debutto al Teatro Comunale il 30 giugno e in replica il 2 luglio entrambi gli spettacoli alle ore 21 venerdì i protagonisti erano alle prese con una prova all'aperto in alcuni negozi del centro al mercato del venerdì di Ferrara il capolavoro di Mozart è la prima delle tre opere buffe scritte dal compositore salisburghese insieme al librettista Lorenzo Adaponte prosegue infatti il percorso nel repertorio mozartiano avviato dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara dopo il successo nella scorsa stagione del Don Giovanni produzione ferrarese acclamata anche in Corea del Sud sono sicuramente dei giovani cantanti ma sotto le mani sapienti di Leone Maggera cantano divinamente e questo è quello che merita Mozart i ragazzi giovani che cantino benissimo perché Mozart come ho appena detto è il dio della musica perché vedere le Nozze di Figaro perché Mozart è il dio della musica e ha scritto delle musiche la sinfonia introduttiva le arie hanno attraversato i secoli e tuttora tutti conosciamo alcuni dei motivi di questa opera straordinaria Emozioni dunque con Le Nozze di Figaro ma emozioni anche mercoledì scorso al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara dove è stata ricordata la figura di Florio Ghinelli il primo giorno d'estate ha coinciso con la festa della musica e l'Avis di Ferrara ha deciso di celebrarlo con un suggestivo concerto dedicato a chi ha tra le mille altre cose cognato lo slogan Avis ama la musica ovvero Florio Ghinelli recentemente scomparso a 78 anni il concerto della storica orchestra Plettro Ginoneri si è svolta a Palazzo Costabili sede del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara la storia di Palazzo Costabili è da sempre legata alla musica l'orchestra Plettro Ginoneri direttori Pier Claudio Fei e Francesco Zamorani si è esibito in concerto in memoria di colui che è stato presidente di origini parmensi e ferrarese d'adozione in città è stato concreto il suo contributo non solo nel mondo dell'associazionismo e in tanti hanno voluto partecipare a questa serata in suo ricordo musica 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 E parliamo ancora di musica ma anche di mostre e convegni, in questo caso lungo le rive del Po con la terza edizione del Festival Scorre. Dalla Toscanini Next a Paolo Cevoli, dalla PFM a Rosa Chemical. Parte il 25 agosto e fino al 10 settembre una rassegna che si terrà tra le province di Ferrara, Parma e Reggio Emilia. In cartellone dunque grandi artisti, musicisti e scrittori ma in particolare l'1, 2 e 3 settembre gli appuntamenti a Bondeno. E in conferenza stampa c'era anche il sindaco Simone Saletti che ha appunto descritto quello che accadrà in questi giorni. Ma sentiamo l'assessore regionale che ci descrive il Festival Scorre. La terza edizione è un'idea formidabile di fare spettacoli musicali ma anche di letteratura, di poesia. sull'asta del Po. Sono tre comuni, Sissa, Tricasali, Bondeno, Boretto e speriamo che nel futuro altri si uniscano. Oltre ai tre comuni c'è la motonave che offre tutte le sere, musica e una cena lungo le acque del Po. E' una nuova idea di turismo, un turismo legato alla natura che si sta diffondendo anche nelle valli dell'Appennino, un turismo riflessivo, sereno e che però poi non è solo natura perché questi paesi sul Po sono pieni di castelli, di palazzi importanti, di beni culturali importanti. Poi naturalmente si mangia benissimo, si beve benissimo. Quindi un'occasione d'oro per passare dei weekend immersi nel paesaggio, in un paesaggio di quello che credo sia il secondo o terzo fiume d'Europa. Cioè noi abbiamo qui al confine della nostra regione un bene naturale, formidabile, che merita di essere conosciuti, ammettiamolo. Tutti noi avendolo lì tendiamo un pochino a dimenticarlo invece. In più, fra le cose belle, soprattutto verso il ferrarese, si può anche vedere tutto il sistema con cui è nata la pianura padana, il sistema delle bonifiche, dell'irrigazione. E' vero che è un momento in cui il sistema ha patito una sofferenza, ma resta comunque un sistema potente con cui l'uomo ha domato la natura, ha trasformato una grande palude in terra abitabile, in terra che produce ricchezza. Quindi la crisi non ci deve far dimenticare la forza straordinaria di questo sistema. Queste sono dunque le parole dell'assessore regionale Felicori, ma adesso invece torniamo in città. Grande festa per l'Aile di Ferrara, che ha celebrato i suoi 19 anni di attività, e il presidente Gianmarco Duo ci ha spiegato in collegamento telefonico l'importanza di questa ricorrenza. Ieri sera una grande serata proprio perché eravamo circa 200 persone al nostro 19esimo compleanno. Naturalmente vogliamo ringraziare tutti i nostri instancabili volontari, il Consiglio d'Amministrazione, i tantissimi sostenitori che in tutti questi anni hanno permesso ad Aile di raggiungere i grandissimi risultati sulle cure delle leucemie e di sostegno ai nostri ammalati del reparto di ematologia e di onco-ematologia pediatrico dell'ospedale di Cona. Ieri sera era anche presente il nostro direttore del reparto di ematologia, il professor Antonio Cunio, e cinque medici proprio dell'unità operativa, in cui ha testimoniato l'importanza di Aile e naturalmente di tutti i sostenitori per raggiungere questi risultati. Ricordiamo di recente anche la donazione da parte di Aile di un ecocardiografo per il reparto di onco-ematologia pediatrica, cose molto molto importanti che riusciamo a raggiungere solo facendo rete, facendo rete con tutti i nostri sostenitori. Ieri sera appunto queste 200 persone erano parte dei nostri sostenitori e naturalmente grazie a loro noi riusciamo a raggiungere questi grandissimi risultati. Quindi davvero grazie a tutti quelli che ci sostengono a qualsiasi titolo. E questa era la nostra ultima notizia, ma vi ricordo ulteriori aggiornamenti su telesense.it e sui nostri canali social. Noi siamo addirittura d'arrivo, per cui come sempre grazie per averci seguito. L'appuntamento è rinnovato alla prossima edizione.